Quindi parto da Elia, chi vorresti eliminare se fossi ancora lì? Faccio il nome di Giulia, Salemi, perché penso che una donna non dovrebbe farci accettare. Va bene, Giulia, basta il nome. Giulia, Salemi per Elia. Eleonora? Benedetta. Benedetta. Io Benedetta, perché a furia di fare bagno è diventata trasparente, ma lui era anche prima del resto. Vabbè, dopo la spiegazione mi sembra anche abbastanza piccante. Jane? Giulia, Salemi. Giulia, Salemi. Alessandro? Anch'io Giulia, Salemi. Giulia, Salemi per Alessandro? Andrea per la Marchesa. Maurizio? Benedetta, perché è entrata in punta di piedi e è uscita con i tacchi a spillo e calza a rete. È uscita con i tacchi a spillo e calza a rete. La bellissima Benedetta. Vai, Maria. Io Benedetta, perché la ragazza che vive di notte e non di giorno, era perennemente assente per quello che mi riguarda. Cioè, stava con la coperta, di giorno non la trovavo, di notte invece non dormiva mai con me. Non dormiva mai con me, lasciava il letto vuoto, spariva. Ok. Lei viveva di notte. La motivazione è... Fabio. Vero? Guarda perché parla. Io anch'io Benedetta. Benedetta, Benedetta. Sì.